Due anni di indagini da parte dei carabinieri di Salerno per smantellare un'organizzazione criminale che utilizzava un call center e messaggi promozionali per la medita di droga porta a porta e la nuova frontiera dello spaccio, che ha portato all'esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelare, 13 in carcere e 10 ai domiciliari. Tra gli indagati anche tre donne, la banda si riforniva a Secondigliano e non si sarebbe fermata neppure durante il lockdown, ma con nuove modalità. Aveva un vero e proprio call center da cui partivano anche le offerte di acquisto a prezzi convenienti o l'acquirente avesse acquistato più tipologie di sostanza sufficiente, ricevevano gli ordinativi e la consegna veniva o a domicilio oppure in luoghi prestabiliti. Siamo passati dalle famose piazze di spaccio alla consegna a domicilio. Si facevano chiamare i ragazzi di Via Irno, chi erano queste persone, gli indagati? Beh, diciamo che ai ragazzi ci fa ricordare un termine adolescenziale, un termine buono, ma tutto erano tranne che buoni perché erano un'organizzazione fitta che, come abbiamo potuto appurare delle indagini, fatturato annuo di circa un milione di euro. Non sono mancate le reazioni del mondo politico, apprezzamento ai carabinieri da parte del deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, che ha accusato A Salerno siamo in totale emergenza. Gli fa eco il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Antimafia. La Salerno città sicura è una chimera. Presente nei teli sproloqui patinati di De Luca e del sindaco Napoli, c'è bisogno di istituzioni politiche attente al tema della sicurezza, precisa Iannone.